6 trucchi per risparmiare sulla spesa. Vuoi sapere subito quali sono? Bene, te li elenco e poi li analizzeremo uno per uno insieme. Lista della spesa settimanale. Controllare il frigorifero o dispensa. Preferire i prodotti sfusi. Evitare i cibi precotti. Controllare il prezzo al chilo. Non fare la spesa se si ha fame. Vuoi che la tua spesa sia davvero responsabile e intelligente? Allora, prima di sederti e ridigi la lista settimanale, controlla cosa manca in casa e soprattutto in cucina, aprendo e osservando con attenzione il frigo, il freezer e la dispensa. Ma pensa bene anche ciò che hai intenzione di cucinare nei giorni successivi, tenendo ovviamente conto delle esigenze di tutti i membri della tua famiglia, ognuno con i propri gusti e i propri bisogni, ed è la possibilità che qualcuno di loro possa talvolta non mangiare in casa. Un consiglio pratico è quello di segnare su una lavagnetta in cucina ciò che manca quotidianamente, a mano a mano che finisce. Questa operazione renderà più semplice la relazione del tuo elenco settimanale di prodotti da acquistare. Ricorda di preparare sempre un bel numero di buste di plastica, o ancora meglio di tela, da portare con te, magari lasciandole preventivamente in macchina o vicino alla porta di casa per non dimenticarle. Dovendo acquistare ogni volta dei sacchetti al supermercato, spenderesti dei soldi inutilmente.